Ma le espulsioni sa come avvengono, uno dice sei espulso ma poi dopo bisogna portarlo. Eh no, appunto direttore, ma non è colpa della politica, bisogna espellerlo, bisogna accompagnarlo alle frontiere, alle patrie e frontiere, o assicurarlo alle patrie galere. Borgonzoni che voleva dire? Ma stavo dicendo che negli ultimi cinque anni, grazie al PD e comunque anche a Rabino e al suo partito, a tutti i partiti che portano a quel governo, e i governi che ci sono stati a susseguirsi non eletti da nessuno fino ad oggi, 20.000 persone criminali, delinquenti, sono usciti dalle galere perché sono stati fatti indulti, indultini gli ultimi 18 mesi a casa e lo sconto di pena. E queste sono persone che arrivano fuori sul territorio e delinquono la maggior parte di questi. Per cui la politica ha delle colpe, è inutile che raccontiamo che le colpe sono solo di malattie. Fatemi tornare ad Argenta!